La CGL di Agrigento denuncia forti disservizi presso le poste della città con lunghe code sotto il sole. Da tempo continua in una nota stampa la CGL agrigentina. Da troppo tempo negli uffici postali della nostra provincia è visibile un fenomeno code infinite di cittadini, tra cui molti pensionati in attesa davanti all'ingresso, spesso sotto il sole estivo, coccente, mentre pochi lavoratori impiegati devono fare sforzi enormi, visto le inevitabili tensioni che si creano, per cercare di svolgere decentemente il servizio. L'arrivo della stagione estiva acquisce questa situazione già di per sé problematica. A denunciare lo stato di crisi delle poste in provincia di Agrigento sono i dirigenti sindacali della CGL agrigentina, il segretario Alfonso Buscemi e Franco Cangemi, i quali continuano con la denuncia ricordando come i lavoratori disponibili diminuiscono a causa delle ferie estive che giustamente devono godere e quindi si allungano le file e i tempi di attesa degli utenti. Si hanno notizie che a Canicati per pagare la bolletta bisogna aspettare anche due ore. C'è evidentemente un problema che riguarda l'amministrazione delle poste, che in questi ultimi anni è stato posto come la forza da parte delle organizzazioni sindacali del settore, carenza di personale. Infatti le piante organiche sono sottodimensionate rispetto al fabbisogno e quindi non in grado di rispondere alle richieste degli utenti. Una situazione che è diventata ormai insostenibile, soprattutto per i più fragili, gli anziani e i disabili. Ci sono addirittura uffici postali che aprono un giorno sì e un giorno no, come ad esempio il villaggio Peruzzo a San Leone. Non è ammissibile che un servizio di pubblico di tale importanza venga gestito in questo modo. I rappresentanti sindacali della CGL annunciano di avere dato richiesta a un incontro con la direzione provinciale delle poste italiane al fine di affrontare il problema e capire come si ci intende intervenire per porre il rimedio a questa situazione non degna più di un paese civile.